Prima fila, Magazine. Oggi siamo all'Arena del Sole perché riprende e si conclude un progetto che era iniziato prima della pandemia, che si chiama Atlas of Transition e si conclude con uno spettacolo e una serie di eventi che coinvolgono una regista argentina, Lola Arias, che porta un nuovo spettacolo appunto, dei film e delle altre attività di cui ci facciamo narrare dal direttore, neodirettore di ERT, quindi anche dell'Arena del Sole, Walter Malosti. E Walter, la prima domanda è questa, riguardo alla parola matria, che diciamo è, non l'opposto, è l'altra faccia di patria, che è una parola che mi sembra molto interessante e calzante con questo progetto. Lavorando intorno al pensiero di questo progetto, a questo spettacolo di Lola Arias, siamo imbattuti in questo termine, matria. È un neologismo, cioè una parola che è stata accolta nei vocabolari molto di recente. Indica un luogo fisico e metaforico di accoglienza al di là di genere, di appartenenze nazionali, etriche, sociali, eccetera, eccetera. Ma ho scoperto, lavorando un po' su questo tema, che alcuni autori ne avevano già parlato, in particolare Cacciari e anche Luzi l'aveva inclusa in una sua poesia su Siena. Quindi questo termine, insomma, è un po' il corrispondente di patria, che è una parola un po' quasi irricevibile in questi ultimi tempi, no? O comunque una parola su cui occorre riflettere con attenzione. Quindi questo matria raccoglie, appunto, materiale legato a spettacoli, a incontri, a scritture, intorno allo spettacolo di Rola Arias. Abbiamo diverse tappe, appunto, come dicevi tu prima, oltre allo spettacolo Lingua Madre, che sarà in scena dal 5 al 14 di ottobre. Abbiamo il 29 settembre, alle 18, al Dams Lab, un incontro tra la regista e autrice e la curatrice di Atlas of Transitions e anche dramaturge del progetto Lingua Madre, Epistanda Di Matteo, con l'introduzione e la cura del professor Gerardo Guccini. Il 3 ottobre, invece, è un evento curioso, in collaborazione con la Cineteca, al Cinema Lumière, è un film, sempre di Lola Arias, che si chiama Theatre of War, che racconta la storia di sei reduci della guerra delle Malvinas o Falkland, dipende dai punti di vista. Di questo lei aveva già curato una sorta di installazione teatrale, poi alla Berninale l'ha presentato come lungometraggio. Sono questi sei reduci che ricordano, la cosa che forse molti non sanno, è che nella guerra delle Malvinas, da parte dell'Argentina, che allora era ancora una dittatura, furono mandati allo sbaraglio dei ragazzi giovanissimi dai 17 ai 19 anni. Dopodiché c'erano altri due film, Maternal e i nove mesi dopo, e poi avremo, diciamo, come spettacoli, diciamo, legati a questo tema, Madre del Teatro delle Albe, con Ermana Montanari, protagonista di un lavoro che intreccia, appunto, la parola, la musica di Daniele Roccato e il linguaggio visivo dell'illustratore molto noto Stefano Ricci, in un testo che ha scritto Marco Martinelli, anche qui il rapporto tra una madre e un figlio, in una lingua inventata che mescola il dialetto romagnolo, di appartenenza della compagnia, all'italiano. Poi abbiamo la lettera a una madre, che è un reading che Sonia Bergamasco fa del romanzo Splendi come vita, della scrittrice e poetessa Maria Grazia Callandroni, che questo lo si vedrà il 13 e il 14 ottobre nella Sala Salmò, mentre lo spettacolo del Teatro delle Albe sarà nostalgicamente, romanticamente, al Teatro San Leonardo, in una specie di omaggio anche a Leo de Berardinis. Poi abbiamo incontri con tre scrittrici, Maria Grazia Callandroni, appunto, che abbiamo già nominato, Giulia Caminito e Gaia Manzini, sempre che hanno scritto tre romanzi intorno al tema, appunto, della madre, e poi due progetti che coinvolgono centro e periferia. Abbiamo coinvolto il CIP Street Post Art, che hanno a loro volta coinvolto una giovanissima artista che si chiama Rebecca Momoli, che creerà un intervento di arte pubblica dedicato a Matria. Lo leggo, il nome del progetto è Her Name is Revolution, lo si vedrà per le strade di Bologna, mentre con la Minari e Dom e la Scuola delle Donne del Pilastro abbiamo organizzato un laboratorio che si chiama Venire al Mondo, insomma il titolo dice tutto, con queste donne, è un progetto che durerà tutto l'anno. Chiude, diciamo, tutto questo progetto, un incontro che si chiama Politiche Gestazionali e Convergenza Postumana con Rosy Braidotti, che è una notissima filosofa, nota a livello mondiale per gli suoi studi sul postumano, che contende la fama solo a Donna Haraway, che dialogherà con Angela Balsano e Rita Monticelli. Un programma quindi molto ricco, molto articolato. Valter, ma se tu dovessi in pochi secondi descrivere il teatro di Lola Arias e soprattutto questo Lingua Madre, che è lo spettacolo che lei porta qui all'Arena del Sole dal 5 al 14 ottobre, come lo descriveresti? Il teatro di Lola Arias parte sempre da un incontro con le comunità a cui fa riferimento di volta in volta, oppure a scritture che prendono origini, come dicevo prima, parlando del film Theatre of War, che parlava di questi sei reduci. Questi sei reduci sono stati appunto i protagonisti. È una sorta di teatro neorealista, ma realizzato con grandissima eleganza e grandissima forza. Grazie. Grazie.